bello a tutti ragazzi sono david j e oggi siamo su guz 3d and wills avevo creato un mio mondo scusate perchè sono il contrario porca vacca non mi ricordavo che era così la mia popera ruota evviva prendilo no no ti prego no 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 anzi io vorrei ne creare un altro non 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 Allora che no che no Grazie a tutti 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 Vai 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 7 su 7 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti